Il racconto si svolge nella sede della CISL regionale a Mestre. Il marito di questa donna bielorussa è stato condannato ad un anno e mezzo di prigione per aver scritto su internet che il presidente del loro paese è un tiranno e un assassino. È stato rinchiuso da solo in una cella per mesi, non poteva ricevere pacchi o visite e doveva comprarsi da mangiare con 13 euro al mese. Oggi è in ospedale, ma non è facile sapere perché. Margarita e i suoi quattro figli fanno parte del gruppo di una trentina di familiari di prigionieri politici bielorussi, prevalentemente ragazzi e bambini, ospitati per tre settimane con la collaborazione della CISL del Veneto e il sostegno del Comune di Venezia al centro di soggiorno Morosini del Lido. Una presenza che ha generato la solidarietà dell'intera isola. Anna Dallator è la presidente dei centri di soggiorno del Comune di Venezia. Un conto è raccontarlo, un conto è viverlo. Nel senso che ti ritrovi in mezzo a queste storie, perché questa è una, però ce ne sono dieci, ce ne saranno anche mille, voglio dire. Noi abbiamo accolto una piccola parte. Rifletti, rifletti di quanto noi abbiamo in Italia. Molto probabilmente non ci rendiamo conto di cosa sia vivere con la mancanza di libertà. Lukashenko guida la Bielorussia dal 1994. Ha progressivamente accentrato attorno a sei maggiori poteri statali. I mesi di protesta di centinaia di migliaia di persone che contestavano la validità delle ultime elezioni del 2020 hanno portato a quasi 10.000 arresti, 6 morti, 300 feriti e 76 dispersi. I leader dell'opposizione sono in carcere o in esilio. L'accoglienza delle famiglie al Lido è stata promossa anche da Yulia Yukno. Per lei è bastato aver distribuito dei braccialetti che chiedevano democrazia per finire in prigione. Io sono stata due volte in carcere, però una settimana e 15 giorni. Ho fatto anche il compleanno, ho 32 anni in carcere. Adesso non posso fermarmi perché non sarebbe giusto, perché ci sono le famiglie che soffrono, ci sono prigionieri politici, ci sono i nostri morti, c'è la mia famiglia che io non ho visto già più di un anno e io non posso dire che ho smesso di fare tutto perché sono stanca.